La flessibilità per accompagnare delle regole più rigide, attenzione nell'entrare in questo dialogo perché si tratta di un giudizio politico, quindi non è il mio ambito di attività. Direi il contrario, se una regola deve essere rispettata e contiene un aspetto di flessibilità, come previsto dalle regole attuali, questa flessibilità dovrebbe essere ben circoscritta e attuata in modo oculato. Forse manca un po' di capacità politica, però non sono sicuro di aver percepito bene la chimica della flessibilità, qual è l'aspetto essenziale per rendere una disposizione credibile.